In tutte le sue fasi, sia nel momento in cui coltivò una sorta di fiducia nei confronti della monarchia borbonica che potesse evolversi verso una monarchia costituzionale, sia quando poi seguì Cavour nella fase di costituzione dello Stato Unitario, ha sempre mantenuto una distanza critica da questi poteri, perseguendo sempre l'unico obiettivo della patria e del benessere del popolo. Patriota e politico napoletano dell'Ottocento, esperto di diritto internazionale e costituzionale, aggregatore di un mondo intellettuale che partiva dalle generazioni che avevano partecipato alla leggendaria esperienza del 1799. La vita di Carlo Poerio fu immersa nelle attività del regno, conoscendo anche lunghi anni di carcere. In occasione del 150esimo anniversario della sua scomparsa, oggi a Palazzo San Giacomo la città di Napoli esprime la sua riconoscenza. In questa occasione abbiamo voluto dare un riconoscimento, una benemerenza all'associazione Alessandro Poerio, che coltiva nel tempo e mantiene nel tempo la memoria di queste grandi figure. A questo premio il sindaco lo consegnerà nelle mani di Anna Poerio, discendente di questa grande famiglia. Il restauro del monumento a Piazza San Pasquale, quindi ringraziamo l'Accademia delle Belle Arti, che è ancora una volta la sinergia istituzionale per il recupero dei beni architettonici e monumentali della nostra città. E poi il ricordo di un napoletano come Poerio, a 150 anni dalla sua morte, un liberale imprigionato per le sue idee, e la voglia della città comunque di ricordare la storia. Questo sta accadendo molto spesso nella nostra città e avviene anche per Carlo Poerio. Tra l'altro ci sono numerose iniziative che si terranno in città e noi siamo assolutamente contenti che ci sia il ricordo dei nostri compatrioti.